Sono sicura che ti farà compagnia in questa sfida qui. Non credo proprio. Guarda, sarà difficile battermi. Le fragole, che bello! Ecco perché io sono quella sfortunata. Ecco, io ho tutto le fragole e così sono ancora più buone col cioccolato. Sono felice. Ne vuoi un po'? Ma perché mi prendi in giro, Jennifer? È così ingiusto. Volevo solo stuzzicarsi un po'. Le fragole sono mie e sono così buone e sono perfette col cioccolato. Smettere di lanciare, non mi piace. Dai, non l'ho fatta apposta. Mi ha pensato a qualcosa. Dovai? Ma mi stai prendendo in giro? Volevo solo mostrarsi un trucco. Fantastico, vero? Ma non è tutto. Ora guarda cosa posso fare. Ecco così. Augere il buono fortuna. Oh no, qualcosa è andato storto. No, mi sono sporcato e col cioccolato ho perso le fragole. Te lo sei meritata, è colpa tua. Vediamo come della cave col peperoncino. Eh, credo che mangiarlo sia molto difficile. Ma vabbè, lo ricopro col cioccolato e spero che mi piaccia. È buono. Ma vabbè, comunque lo posso mangiare. Ah, guarda che se tutto quanto è rossa adesso. No, sta andando in fiamma la mia bocca. Aiuto. Cosa devo fare? Sono in panico. Potete darmi un bicchier d'acqua. Oppure posso bere del cioccolato. Così sta molto meglio. Mi sento un po' arrossita. Voglio dormire. No, non è possibile. Hai bruciato le mie fragole. Scusa, mi è uscito per sbaglio. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è sotto questo coberchio. Io ho degli skittles, sono felice. Che belle. E tu cos'hai? Scopriamola. No, un pesce crudo, è disgustoso. Ed è puzza. Ma che puzza che c'è. Quindi mangialo presto e la pizza finirà. Questa è la cosa peggiore che abbia mai visto. Vediamo come te lo gestisce. E se sei in grado di gestirla. Non c'è bisogno di far così. Annunzala e mangia. Che gentile che sei. Ma perché mi spaventi? No. Ora prendi il tuo pesce e fallo finita. Hai ragione su una cosa. Devo mangiarlo. Ecco, fatto. È orribile. E ora posso mangiare tranquillamente i miei skittles. Ma ho un piano. Posso versarli nella ciotola e sopra nel verso il cioccolato. È così? Sì. Ed è un po'. Non mettersi in mezzo. Sono impegnata. Ecco, Nazio. Ecco che il mio piano geniale funziona. Finalmente potrò provare a discrittersi e coprire il cioccolato. È incredibile. Non ho dubbi che sia vero. Devo provarle anch'io. Ridammele. Alida. Dai, su. Ma guarda cosa hai fatto. Ma è meglio così. Così saranno ancora più buone. Delizioso. Le fine le proverò. No, no, no. Te l'ho già detto. Guarda che me la pagherai. Ok, andiamo avanti. Vediamo cosa abbiamo. Un hamburger delizioso. Ma che bello. E tu? Una torta incredibilmente bella. Questa crema mi attira tantissimo. Cosa stai facendo? Non toccare la mia torta con le tue mani sporche. Mangi il tuo hamburger. Hai ragione. Però ci devo versare del cioccolato. Sono davvero curiosa. Come sarà? Non ho mai mangiato un hamburger ricoperto del cioccolato prima d'ora. No. Ciocca. Guarda che era chiaro. So come risolvere questo problema. Basta mangiare tutto quello che c'è dentro. Cetrioli, pomodori, lattuga, cotolette e salsa. E così questo sarà il mio piano principale. E il panino lo posso ricoprire. Col cioccolato sarà il mio dessert. Sì, dimenticavo. Il formaggio. Deve essere mangiato prima. Ecco così. La cotoletta croccante. Buono. Ho mangiato bene. E ora del dolce. Così. Ok. Un po' di pazienza. L'ho quasi mangiato. Ecco, è rimasto solo il panino. Proprio come avevo previsto. E ora di mangiarlo. Delizioso. Il mio piano ha funzionato. Sono così brava. Ecco fatto. Sono felice che tu abbia finito. Ora posso suggerire la mia torta. Ma come faccio a prenderla senza sporcarmi? Lo so. Devo tagliarla a pezzi. Così sarà molto più facile immergirla nella fontana. Che bravo che sono. Bisogna accelerare un po'. Ecco, vieni qui tesoro. Per il momento, sì, della doccia. Sono sicura che sarai buonissima. Deliziosa. Posso suggerire un po'? Per favore, siamo amiche. No, ho detto che no. Ah, sì? Ti darò una lezione. Non condividi con me? Aggiungo del tabasco alla fontana. E vedremo come parlerà. Sono sicura che non ti piacerà il sapore. Bastano pacche gocce. E ora aspettiamo. Mmh, ne voglio ancora. Mmh, che bella. È impossibile fermarsi. Ti piace davvero? Ma perché lo stai chiedendo? Certo che sì. Ma perché fa così caldo? Le mie bocche in fiamme. Ho bisogno. Ma, ma perché? Devo bere così? Ma, no, che succede? Bruccio, aiutatemi. Beh, hai bevuto il tabasco col cioccolato. Dovremmo metterti fuori. Ma non c'è un'altra scelta. Ma ora, non mi importa. L'importante è che mi sento meglio. Sono pronta a iniziare. Ti dispiace, Mia? Che spiacevole sorpresa. Mi dispiace portare Susie. Oh, il piccante mi fa sempre schifo. Smetti di ridere, Mia. È meglio che tu vedi quello che hai. Oh, che bello. Che ne sorprese. Le adoro. Oh, è così buona. Susie, chiudi la bocca e spostaci. Ma cosa devo fare con questa foglia? Mangiare questo peroncino? Forse il cioccolato lo sstemmerà e il sapore sarà molto più buono. Devo controllare. Aspetta un attimo. Faccio con calma. Io non do il migliore. Cosa facendo? Non puoi leccare un cioccolato. Devo mangiare tutto quanto. Lo sapevo. Ok, guarda. Posso mangiarlo facilmente che non sudorò neanche. Buono. Oh, no. Vado a fiamme. Vabbè, sembra che tu avrei bisogno di me. A me sarà una protezione. Non posso trattenermi. Ma potevi spuntare fuoco dall'altra parte, Susie? Scusa, ma non mi controllo. Ho bisogno di bere subito. Oh, sì. Così mi sento molto meglio. Che sollievo. Non posso credere che sia tutto finito. Oh, sono contenta. Perché ridi, Susie? Guarda la tua faccia. Oh, qui. Così va meglio. Oh, no. No. Il mio uovo cioccolato si è affuso. Lo fanno per casa, vero? Ma chi se ne frega? Non di caso non può mangiarlo. Sì, ma il regalo è intatto. Oh, c'è un uovo. Ti dico sorpresa. Oh, sono fortunata. Devo togliere la confezione adesso. Oh, così è molto meglio. Posso provare? Ecco, no. Devo emergerlo qui nella fontana. Così sarà ancora più buono. Mi do un pezzo. No, non pensarci neanche. Tu hai rovinato un uovo e questo non lo avrai. Oh, capito che sei. Ok, un uovo piatto. Dai, scopriamolo. Guarda, è un pop-it. Sembra fantastico. Voglio essere la prima a toccarlo. E' strano. E' per senso non funziona. Non capisco, ma si è rotto? Oh, non lo so. Prova a guardarlo da vicino. Ecco. No, ci ho fatto un buco. Ma è molto strano. Oh. A proposito, ha un buon profumino. Ma bello l'ecco. Sì, ma è gommoso. Fantastico. Che bella sorpresa. Scommetto che anche il mio pop-it è commestibile. Oh, non riesco a mangiarlo. È troppo difficile. Mi romperò i densi. Oh, che male. Mi sono colpita in faccia. Beh, la prossima volta non lo metterai in bocca. Scusa, ma io c'ho da fare e devo mangiarlo. Sì, il cioccolato l'ho fatta ancora più buona. Il sapore è divino. Non ho mai assaggiato nulla di simile prima d'ora. Ma anche io vorrei provare. Mi dai un pezzettino? No. Ecco, lo sapevo. Ok, posso solamente giocare. Aspetta. Ma io so cosa farò. Proverò a versare il mio pop-it del cioccolato. Così sarà buono. Dove sta andando, Susie? Devo metterlo in frigo per far congelare il cioccolato. Ecco fatto. E ora devo aspettare un po'. Ah, penso che sia pronto. E lo posso prendere. Ah, sì, fantastico. Il cioccolato si era preso. Presto potrò provarlo. Dove è andata, Susie? Ah, adesso lo capirai. Ho riempito il mio pop-it col cioccolato e l'ho messo in frigorifero. Guarda, che bello. È fantastico. E posso aggiungere ancora un po' di cioccolato. Beh, è ora di provarlo. Il sapore è divino. Il cioccolato si scioglie in bocca. Non dubito che sia buono. Posso provare? Oh, lo sapevo. Sei avida. Ma comunque potrò assaggiarlo. Scusa, Susie. Ma questa pop-it è mia. Oh, che miei bottoni. Voglio giocare ancora e ancora. È così convolgente. Oh, non posso staccarmi. In realtà non è bello prendere le cose delle altre persone. In ogni caso non ci serve. È mio. Dammelo. È mio. Cosa hai fatto? Ecco, l'abbiamo distrutto. Come sei, Susie? Ecco, il pop-it è rovinato. Non avresti dovuto prenderlo. Ma comunque non è male. Ah, sì, forse hai ragione. Sì, funziona. Non avete l'ora di aprire. Dai, su, vai. Cosa? Una panna che i mais? Forse tu sarai più fortunata. Che bello il gelato. Sì, aveva ragione. Ma perché l'avete così ingiusta? Io vorrei essere nei tuoi panni. Posso darsi un po'. Oh, grazie. Ah, cosa stai facendo? Non è divertente. Ah, penso che sia molto divertente. Volevo divertirmi un po'. Wow. Che buono. Il gelato è ottimo col cioccolato. Mi piace. Io vorrei assaggiarlo. Credo di aver già detto che posso farcela senza tuo aiuto. Ah, sì. Così ottimo. Mi piace. Io comunque voglio provare il divino. Ma non pensi che fa troppo freddo qui? Non posso muovermi. Eh, mia, cos'hai? Strano, non sono in reazione. Ah, sei congelata. Fantastica. Allora posso finalmente provare il suo gelato. E ora nessuno può fermarmi. Ah, sì. Sembra fantastico. Fidati mia. So fa bene quello che fai tu. Adesso lo prendi. Hai detto qualcosa? Mi dispiace, non capisco nulla. E ora ci scalderò. Sono certa che un bracciatore a gas mi aiuterà. Come stai, Mia? Meglio? Oh, posso muovermi di nuovo. Che bella sensazione. Grazie. Susi mi ha salvato. Oh, no. Il mio gelato. Ma l'hai mangiata? Dai, sono le piccole ricompense per il mio aiuto. Ma sì, allora dovrei mangiare anche queste pannocchie disgustose. Ma la mangiarei comunque. Ma forse il cioccolato la migliorerà? Non è male. Ah, adesso non è buono. L'ho sbagliata tutta. Cosa stai cominciando, Susi? Mi sono ricordata che si può fare qualcosa con il mas. Per esempio. Ecco, mi servono i chicchi. E l'altro resto posso buttarlo via. Ma cosa serve anche una padella e un fornello? Ma non ho ancora capito? Voglio fare le popcorn. E per questo mi servono i chicchi. E li devo riscaldare. Ecco, mi urlo in faccia. Non me lo aspettavo. Va bene. E ora posso spegnere. Che bello. È un ottimo piano. Sapevo che l'avresti presato. In questo modo il mais mi piace molto di più. Le cose che manca è la dolce glassa al cioccolato. Ma adesso la metterò. Che bellezza. Il cioccolato si estende perfettamente. Ora il mio piatto è completamente pronto e lo posso assaggiare. Sono sicura che è deliziosa. Ah sì. È fantastico. Ne voglio ancora. Susi. Lascia che ti ricordi che noi siamo migliori amiche. E cosa? Te avrei condividere? Bene. Ecco, prendi. Ma dov'è Lanci? Tutto è meglio. Non riesco a prendere nulla. Scusa, ho una pessima vista. Ma non stai nemmeno cercando di piccarmi? Sono molto stanca. Dammi il popcorn. Lo mangerò senza il tuo aiuto. In realtà è mio. Dammelo, è mio. Ecco. È caduto. Adesso devo prendere con la bocca. Fantastica. Non è giusto. Eh no. Penso che sia giusto. Io il popcorn e tu il secchiello. Ecco. Vediamo cosa ci aspetta. Io voglio essere la prima. Uh, una coca cola. Non male. Questa è certo. Sei stata fortunata. Mi chiedo. Cosa? Hai tu? No, broccoli. Io voglio la coca cola. Dai, superdente. Dai, smettere di prendermi in giro mia. Eh no, non ti sto affatto a prendermi in giro. Mi sto godendo il mio successo e immagino di... Di bere una coca cola col cioccolato. Non c'è tempo da perdere. Oh sì, che buono. Mi rinfresco così tanto. È ora di sperimentare un po' e aggiungere un po' di cioccolato. Senza dubbio il mio drink sarà ancora più buono. Ottimo, la bottiglia è di nuovo piena. Ma perché non c'è nulla? Sì, perché la bevanda è troppo densa. Ce la farò. Ok, la spremo. Dov'è, dov'è? Eh, cos'è? No, perché? Oh, la faccio sporca. Oh, guardati. Vabbè, succede a tutti, non è un problema. Wow, delizioso. Sono pronta a leccare tutto quanto. Cosa? Sembra che ne valga la pena. Mi dai un po'? No, dai i broccoli. Vai. Grazie per avermi ricordato, eh. Non lo misicherò, eh. No, ma puzza. Devo mettere un po' di cioccolato sopra. Forse questo l'odore sparirà. No, niente mi aiuterà. È semplicemente disgustoso. Non consiglierei mai, poi mai, nessuno di mangiare questo. Dai, su, devi mangiare tutto quanto. Visto che insisti, va bene. Ma credimi. Non c'erà una cosa buona da questa? Ah, mi faccio mangiare questo. Vabbè, mangio tutto. Forse così non sentirò nulla. No, fa schifo, comunque. No, non è rimasto così tanto. Devo sbrigarmi. Onestamente mi dispiace un po' per te, Susie. Ma questo ci spedisce di farmi fare cose che non voglio fare. Queste sono le regole. Smettili di lamentarti. Ecco, questo è l'ultimo. Contenta? È una pancia da ipopotamo. Oh no, c'è qualcosa in arrivo. Siusi, smizzila. No, sto per soffocare. Scusa. Com'è che siamo? Cos'è? Spero che ci sia qualcosa di buono qui. Questa è la bomba. Adesso scoppia. Sembra di essere rotta. C'è qualcosa che non va. È una bomba dolce. Buonissima. Wow. È impossibile fermarsi. Vado ancora e ancora. Vorrei poter essere giro. No, è notte mia. Wow, hai mangiato tutto così velocemente. Resta la sua parte. È la prima volta che mangio un cronometro. È molto buono. Consiglio a tutti di provarne uno. Un momento. Che cos'è questo suono? Che viene da qui? Cos'è? È una bomba vera. Aiuto. Cosa è succedente? Guarda. Che fortuna. Ho visto che qualcuno ha bisogno dell'aiuto. Non preoccupatevi, salvo io. Ho una cosa speciale. Ecco, fate. Siete salve. Cos'è? Mi chiedo, tra quanto esploderà? Non è chiaro. Bisogna sbrigarsi. Sapete come si usa questo bottone? Oh, sempre che abbia rivelato tutto. Il lavoro è finito qui. Ciao. Wow. Così in alto. Mary. Cosa ci facciamo con la bomba? Niente paura. Ho un piano. Provo quello che vuoi servire. Mary, questo ti aiuterà. Ok. E questa polla? Ma certo che no. Non c'è d'aiuto. E questo? Ma... Veroce, togliela. Quando sei noiosa. L'ho trovata questa. Questo ti aiuterà in sicura. Taglierò le figlie con queste. Questa è una grande idea. Wow. Ci sono così tante figlie. Quale dovrei tagliare? Credo il blu. Mary, per favore, indovina. Fatto. Siamo salve. No. Il tempo è ancora più veloce, va. Ecco. Sto per coprire il cioccolato. Anch'io. Io non vincerebbe il cioccolato. Vincerò io. E un'altra. Non ti lascio a sola. Un pareggio. È stato incredibile. Apri. Wow. Sono così contenta. Questo è un nuovo iPhone. Wow. Anch'io. Questo è il mio regalo. Abbiamo due iPhone uguali? Non lo so. Hai il loro controllo. Wow. Sembra così comodo in mano. E ci sono già tante app. Ma perché non funziona? Qualcosa non va qui. Wow. Ma è di cioccolato. Non l'ho ancora provato. Wow. Buono. Wow. Se è il tuo cioccolato, allora io ho quello vero. Ottimo. È il tempo di fare le selfie. Buona idea. Sono rigida. Fai via. Riena foto. Molto bello così. Ma aspetta. Il mio vendente sarà tremenda. Oh là. Sono così carina. Oh. Aiuto. Oh no. Il mio telefono. Ci sta bene. Mi hai spaventato. Ups. Dov'è il mio telefono cioccolato? È ben sempre tutto a posto. Oh no. Il mio telefono è nuovo. Adesso non potrò più fare dei fantastici selfie. Hmm. Buona idea. Perry? Cosa vuoi? Cambiamoci i telefoni. Wow. Subito. Dammi il tuo e prendi il mio. Oh no. Cosa? Ma è rotto. Giants mi hai imbrogliato. Cosa? Sta mangiando il mio telefono cioccolato? Mi dammelo. Non mi... Hai detto che è rotto? Tipo... Ho rimosso solo un pezzettino. Wow. Carica, batterie, cioccolata. Non credo che sarà d'aiuto, ma perché non provare? Wow. Adesso posso mangiare il telefono intero. Wow. Mary, sei stata truffata? Mmm. Ti vedo in silenzio. Mmm. Che buono. Forse posso usare la carica batteria sul mio di telefono. Vale la pena provare. Ho rey. Eh? Ah. Aiuto. Salvatemi. È stata una cattiva idea. Oh. Un bel taglio di cappelli. Mmm. Che cosa dite? Sono la prima. Wow. Il mio kinder è stato tese preferito. Così tanti. Wow. Bello. Anch'io ne ho sei. Cosa? Anche tu? Chi ha cioccolata? Chi ha bovvere? Mmm. Io ho quelle vere. Mmm. Voglio provarlo. Mmm. Il cioccolato. Mi piace così tanto. E all'interno c'è la Venet. Dobbia delizia. Wow. Lo voglio anch'io. Esatto. Non ho il mio personale kinder sorpresa. Mmm. Che dolce profumo. Wow. Io c'ho delle uova vere. Che schifo. Mi sta bene. Non è giusto. Spero che il prossimo uomo non sia così. Ho paura di provare. Oh no. Ecco di nuovo il tuorlo. L'odio. Wow. Che schifo. Mi ero peggiore di sempre. A me piace. Dopotutto che le sorprese sono il cibo più buono del mondo. E c'è sempre la sorpresa che ci aspetta. Awesome. Wow. Palle in cioccolato. Le amo. Ray. Anch'io voglio venire un kinder sorpresa. Chelsea, fammi saggiare, per favore. No. Come un kinder sorpresa ne puoi dare una a qualcuno. È solo mia. Chelsea, sei così avida. Cosa posso fare? Ho un'idea. Così imparerò che bisogna dividere con i miei amici. Preparati, Chelsea. Non voglio mangiare dopo. Ecco. Proprio quello che mi serviva. Fermo. Che sapore disgustoso. Non ti è piaciuto? Sei stato tu. Prendi. La mia faccia è sporca. Il tuo scherzo non ha avuto successo. Che casino. Devi mangiare tutti i kinder sorpresa. No. Non ho di nuovo questo. Se è necessario, è necessario. Non è davvero comunque. Pucciniamoli per un minuto. Cosa stai inventando? Prendo un uovo. Ups. Prendiamo un uovo. E lo freggiamo in padella. E facciamo così per tutte le uova. E ci facciamo delle belle uova sfranzate. Wow. Sembra delizioso. Bene, posso provare? No. Queste uova sono solo mie. E va bene. Un pericoloso trucco culinario. Wow. Wow. Che altezza. Prendi. No. Ups. Stanno a me. Scusi. Le mie uova sono rovinate. Non concederò mai più. Io comincio. Wow. Un kitty McDonald's. Massimo. Ora io. Wow. Un cavallo. Lo provo io per prima. Quale è perfetto per la mia sete? Cosa? Come è successo? Ci sono. Oh, l'acqua. Quale è il cioccolato? Amo il cioccolato. Cosa? Che bello. M&M's. Wow. Coca-Cola e cioccolato con M&M's. Combinazione perfetta. Voglio provarlo anch'io. Proviamo. Sono insuppata. Non ti è piaciuta la dolce di Coca-Cola? No. Non c'è niente divertente. Oh, che peccato. Ho finito la Coca-Cola. Mi chiedo. Se anche le patatine non siano cioccolato. Sì. È un delizio totale. Patatine finita e cioccolata. Nessuno ha mai visto una cosa del genere. Voglio mangiare tutto. M&M's. Delizioso. Posso mangiare l'interno. M&M's. Anche la scatola è comestibile. Sei seria? Mi hai preso in giro. Non si può mangiare. Sono rimasto senza patate e senza Coca-Cola. Ok. Sono triste. E' fatta. Wow. Grazie mille. È veramente delizioso. Quale... Penso che finalmente sto per creare un cioccolato infinito che non si eserisca mai. Oh. Ma vabbè. L'impressione è che qui manca qualcosa. No. Rovinerai tutto. No. Non lo farò. Ecco. C'è chiaramente qualcosa che non va con il cioccolato. Si sta muovendo. Wow. Abbiamo un'esplosione di cioccolato. Ora hai del cioccolato su tutta la faccia. Anche tu. Che strano. Anche il mio iPhone divinato marrone. Come una barretta in cioccolato. Guarda. Questo è il cioccolato. Buono. Davvero? Mi stai prendendo in giro? Fammi provare. È incredibile. Wow. Guarda. È ora vero. Wow. Wow. Anch'io ce l'ho quello vero. Però scommetto che uno di noi ha il cioccolato. Il mio mattone ha un profumo delizioso. Quindi spero che sia io. Prova. Sì. Il cioccolato è mio. Non ho bisogno di allora. Sì. Se anch'io non ha barretti cioccolato, dovrei esecolarmi. Beh, com'è? No. Mi sono rotto i denti. Che male. Sì, hai fatto dei danni. Ma non preoccuparti, ho un piano. Forse non lo sai, ma ha fatto un po' di pratica odontarica. Apri bene, ti rimetterò. È nuovo questo. Userò il tuo oro per farlo. Oh, che bello. Grazie mille. Prego. Ho chiuso gli occhi questa volta, Alex. Sarà meglio i denti così. Beh, è stata facile. Oh, no. Il peperice piccante non lo mangio. Spero che Alex si diverta. Alex, dai, apri. Oh, che bello. Io ho il peperoncino in cioccolato. Oh, no. Io no, normale. Eh, sarà così piccante? Ma tu lo sai già. Io proverò il mio. Come va! Eh, è di puro cioccolato. Immagino che questo significa che tocca a me. Quei strano. Non è per niente piccante. Guarda, ma è di cioccolato. Aspetta, Barbie. Sei sicura che è il tuo? Oh, cosa? Un peperoncino. Aiuto. Non so cosa fare qui. Anche se penso che un po' d'acqua dovrebbe bastare. Oh, no. La calda bruncia. Scusa, torno subito. E tra sei miei, mi salverò. Ah, questo mi aiuta. Ecco. Ho portato un intero secchio di latte per te. Chiudi gli occhi. Stavo già bene, Alex. Wow, un puppet bello. Questi sono ottimi per alleviare lo stress. Concordo, sono i migliori. Ma non si sembra strano che siano entrambi veri? Uno dei due dovrebbe essere il cioccolato, giusto? Ho provato il mio. Vabbè, non è come simile. Guarda, c'è un po' di interrogativo qui. Ehm, interessante. Anche sul mio, eh? Premiamoli. Wow, questa è un'altra cosa. Ora un cioccolato e una cacola al cioccolato. Ed è pieno di altre cose buone. Questo è un sogno che diventa realtà. Cioccolato al latte è il mio preferito. Penso di poter comandare il mio cioccolato e il mio puppet. Questo è lo stampo perfetto in cui posso versare il mio cioccolato e ottenere una bella tavoletta di cioccolato. C'è solo un'altra cosa di cui ho bisogno. Ecco. Ecco fatto. Ora un fantastico puppet al cioccolato. Oh, fai almeno provare. No. Stai lì seduto. E cerca di non essere geloso di me. Sei così avide. Oh, perché sono seduto qui? Anch'io ho la Coca-Cola. E posso altrettanto facilmente versare nel mio puppet. Devo solo assicurarmi di seguire gli stessi passi che ha fatto Barbie. Non darà niente. Vedremo. Ah, che dolore. Guarda cosa hai fatto. Non volevo. Avevo solo tanta fretta di provare un'idea deliziosa lecca-lecca la Coca-Cola. Ah beh. Beh, posso assaggiare? Certo. Non sono avido. È troppo appiccicosa. Preferrei invece mangiare il tuo cioccolato. E visto che tu non sei capace, metterlo da solo. Vabbè, dai, ti aiuto. Vabbè, penso che sia stato divertente. Ah, sì.